Amici, voi non avete idea di quanto io adoro il mio server Discord e tutti coloro che sono all'interno, tra l'altro siamo tipo in 100 o quasi in 100, non lo so, ma tipo è il server migliore della storia, lo dico proprio a mani basse, è proprio un misbilancio. E ultimamente nel server, ultimamente da un bel po' in realtà, sta girando questo meme del pollo, perché c'è uno che c'ha l'immagine dei polli e vabbè fa straridere, mega ignoranza totale, quindi oggi per andare a onorare sia il buon pollo sia il server andiamo a fare una costruzione di un gigantesco pollo e se ci va anche quella di un creeper, molto probabilmente faremo anche quella di un creeper, sarà bellissimo, sarà bellissimo. Ah e ovviamente vi invito ad entrare nel server Discord, il link è in descrizione, vi divertirete. Allora amici, come vedete nel mio inventario c'ho tutto quello che ci serve, ovvero calcestruccio, calcestruccio, giallo rosso, l'alene bianca e calcestruccio nero. Ok, allora quindi mi faccio una bella dormaio, ok non è notte, perfetto, ci dobbiamo beccare la pioggia, tipo io lo farei, il pollo, io lo farei tipo in un posto in alto, tipo sopra sta montagna, però va a coprire l'elefante, o che lo facciamo qui, no però boh. Allora, fatemi trovare un posto e poi ne riparliamo. Signori, mi sa proprio che lo facciamo qui, dai, è più in alto, è più riverente, quindi abbiamo trovato lo spot per il pollo. Allora, dobbiamo salire di 5 blocchi, non li ho contati minimamente, 1, 2, 3, 4, 5, perfetto, e altri 5 per fare l'altra gamba. Poi dobbiamo fare delle righe di 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ne facciamo 2 per fare i piedi. Oh mio Dio, sta già venendo, che bello, che bello, potrebbe tranquillamente essere un insegna del McDonald's, ma noi vogliamo un pollo, che poi finirà il McDonald's, ma per il momento solo un pollo. Ci serve da fare il corpo, quindi prendiamo la lana bianca, per adesso, vabbè, salgo da qua davanti, dai. E dobbiamo fare un blocco di lana qui, uno qui e poi avanti di 5, quindi 1, 2, 3, 4, 6, 5, è il poglito, perfetto. Ok, allora ho fatto la struttura corporea del pollo, quindi ho fatto 5, 7, 5, 7, perfetto, perfetto, il mio pollo gigante, che bello. Vabbè, e ovviamente dobbiamo andare a chiudere il tutto con la lana. Ora, io ho due stack di lana, non so se mi bastano mai nella vita, in caso, povere pecore, dovrò andare a ritosarle. Sarà una brutta notizia da dargli, però per il nostro pollo questo e altro. Tra l'altro il mob spawner, ve lo dico così alla veloce, l'hanno fixato, quindi o ne trovo un altro o per il momento, addio mob spawner, rimarrai per sempre lì, ma è un po' inutile in realtà. Ma vabbè, quindi mi devo alzare di 5 su tutti gli angoli, 4 e 5, sotto al volo! Eh, ho sbagliato, sapevo che sbagliavo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Ultimo stack di lana, ah no, ne ho altri, ah, perfetto, ok, basta, basta, perfetto, ne avevo preso uno in più, pensavo di averne uno in meno. Parkour! Eh? Pensate che io non ci arrivi di là, eh? Pensate che... E ora arriva la parte più dispendiosa di lana, ovvero unire tutti i pezzi, esattamente così, e anche ricoprire qui dentro per fare appunto il corpo del pollo. Io utilizzo la lana, però di sicuro mi finisce, quindi ovviamente ora vi faccio un taglio e vado a prenderne altre dalle pecur. Allora, per voi è passato un secondo, per me è un bel po' di tempo, guardate il maiale come va già ad ammirare la statua. Ho chiuso il tutto e ho fatto pure le ali e ora, come scendo, però dobbiamo andare a fare anche la testa, che è tipo la parte più importante, ma vedete che sto già uscendo, che bello, che bello, che bello. Uno, due, tre, quattro, alte quattro. Uno, due, tre, quattro, perfetto. E qua davanti estendo di due in ogni lato, quindi meglio fare prima quello e poi questo, perfetto. Sono un po' troppo sotto, però va bene così. Appunto perché devo scendere di cinque, due, tre... Eh, ora come faccio? Devo fare così? E quindi devo collegare il tutto. Sarà difficile, ma ce la faremo. Ce la faremo! Allora, io l'ho finita, siete pronti a vedere quanto è bella? Boom! Il nostro pollettino! Pollettino! Quanto è bello, quanto sei bello, che c'hai sotto anche dei pezzi di lana. Quanto è bello, vi ho tagliato il pezzo del quale metto i due occhi, vabbè, il becco lungo due. Troppo figo e ora devo scendere e devo pure riparare la pala di diamanti. Perché mi sei rotto, cioè mi sei rotto, mi si sta per rompere. No! Mi sono spezzato le gambe. Ah, qui tra l'altro devo metterci la terra. Ma sapete che io non ho mai voglia di finire quella costruzione lì. Cioè, è strabella, è tipo stupenda, però non ho mai voglia. Quindi, quella del pollo è stata fatta, però... Eh, cioè, guardate quanto è bella. Guardate quanto è bella. Però voglio fare anche quella del creeper. Dove potrei farla? Potrei farla lì. Cioè, quanto è bello il pollo. Quanto è bello. Allora, potrei farla lì. Sì, snimbo, non lo so. Ma i creeper di cos'è? Campaura dei polli. Ma sapete che non mi ricordo? Scrivetemelo nei commenti, va? Allora, Pollettino, l'hai visto il tuo paparino lì sopra? Allora, ci sta... Guarda come lo sta guardando. L'ha guardato tantissimo. Vabbè, allora io mi prendo le cose per fare quella dei creeper. Trovo un luogo e poi ci facciamo anche quella. Così almeno l'episodio sarà completo e proprio un bijou. Un bijou. Oddio. No, oddio. Allora, mi è venuta in mente una mega idea. La più bella della storia. Voglio fare in questa zona, e oggi inizieremo con quella del creeper, poi continueremo, tutte le varie teste dei vari mob, tipo collegate. Tipo c'è quella del creeper, enderman, zombie, scheletri, aerobrine. E voglio farle tutte qua, quindi questa sarà la montagna dei mob. Bellissimo. Però per adesso facciamo quella dei creeper. Allora, facciamo una base di 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. E poi cambiare ogni due con la lana nera. Avevo provato col calcestruzzo, però sinceramente la lana si abbina meglio con la lana. Quindi, ciao piccolo zombie, farò anche la tua testa. E quindi, appunto, alterniamo. Poi facciamo una cosa del genere, stuc. E qui, stuc, vedete? Sta già prendendo forma. Il nostro creeper, non venire a disturbare, perché... Eh, ok. Ecco, è venuto a disturbare. Allora, stiamo cercando di costruire qui, mica di cincischiare. E idem lo facciamo un'altra volta. Per fietto. E per... No. E per sfregia quello zombie, stuc, stuc. Addio carne marcia, addio per sempre. Sì, mi sa che mi servirà più lana nera, perché la sto finendo. Però il creeper sta uscendo decisamente figo, che bello. Ah, anche la testa di ragno voglio fare. Ecco cosa mancava. Il ragno. E anche l'ender dragon. Parkour! Saliamo di un altro blocchetti. E poi vediamo com'è uscito. Senza cadere. Ok, perfetto. E mi sa che però voglio farla cubica. Cioè, in teoria sarebbe finita, però mi sa che voglio farne un altro pezzo. Quindi, allora, vado qua dietro. Mi faccio un... Guarda quanto è bello. Una sorta di cubo e che poi, appunto, andremo a fare anche le altre facce in un prossimo episodio. Però l'idea è stata una bella idea. Ragazzi, ho fatto. Allora, questa è la testa di come la vedete davanti. E qua è tutto, tutto, tutto muratissimo. Maissimissimo. Qua facciamo così, va, perché è più stiloso. E ho intenzione di fare le altre teste degli altri mob, così. E la voglio fare qui. Quindi questa sarà la nostra montagna delle teste. La montagna dei mob. Chiamatela come volete. Anzi, nei commenti scrivetemi un nome adeguato per questa montagna. Lì c'è un pollo, bellissimo, che guarderà, sorveglierà le nostre teste. Cioè, ma che bello. E lì c'è pure una montagna elefantosa. Cioè, ma che bello. Che bello. Tu fai schifo, ma che bello. No, lo dovrò migliorare. Quindi, signori. Vabbè, quante sberlo ho preso in un secondo. Me ne torno un attimo alla base. E poi ci possiamo salutare. In realtà potremmo salutarci anche qui. Però voglio dormire. O meglio, voglio salvare e spegnere il gioco all'interno del magazzino. Mi starete chiedendo perché. Beh, non c'è un vero perché. Però lo voglio fare. Quindi, signori. Per questo episodio è tutto. Mi tolgo le cuffie, come alla fine di ogni video. Ed è stato un episodio bellissimo. Bellissimissimissimo. Mi è anche venuta in mente l'idea delle teste. Che è bellissimo. È un bijou. Quante volte ho detto bellissimo? Non lo so. Nel dubbio. Bellissimo. Io vi ringrazio per la visione. Spero che vi sia piaciuto. E vi do appuntamento domani. Alla solita ora. Verò le 2.45. Con un nuovo video. Ciao. Ah, il pollo.